Ricordiamo alla gentile cliente che è possibile cambiare la merca di acquistata... Salve. Salve. Avete i panini con la salsiccia? Sì, ce li abbiamo. Papà, mangiamo qui. Con consegna a casa. D'accordo. Papà, in totale sono 1524 corone. Papà! Cosa? No, 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 no. Il letto costa 1099. Sì, ma per la consegna sono 425 corone. 425? Possiamo? Niente consegna. Lo porto via io. Venga. Devo darle una corona di resto. Il resto lo prendo io. Vuoi lo scontrino? No, grazie. Papà, allora non mangiamo. Forza, andiamo. Muoviti. Papà! Salve. Salve. Aspettami, papà! Aide. 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 La mia cosa può vedere? Come, vive. Hidrati. Sì, oggi faccio asino. Oh. Papà, possiamo ordinare la pizza? Va bene. Possiamo guardare, Bruce Lee. Ok. E Muhammad da lì? Sì, certamente. Fantastico.